Si sono dati appuntamento alle ore 16 di sabato al solito posto in quello che era il loro luogo di ritrovo, tra la macchinetta e la sala giochi, tra Piazza Garibaldi a Casal Maggiore e Vicolo del Tesoro. Loro sono gli amici di Daniele, il 19enne di Casal Maggiore ucciso a Palma nella notte tra martedì e mercoledì. Loro sono Caroline, Carmelo, Lidia e Luigi. Hanno affisso, grazie anche all'aiuto di Daniela Bellini, commerciante di Piazza Garibaldi, un piccolo manifesto di ricordo con tante fotografie di Daniele, sempre sorridente, ed è giusto che il ricordo di Daniele passi dalle loro parole. Noi questo cartellone qua l'abbiamo fatto per ricordarlo un po' dei momenti in cui c'era. Non ho parole per descrivere la sua mancanza. Ecco, tu qual è la cosa più bella che ricordi di lui? Questa è uscita qua. Dove eravate lì? A Milano. Evate passato una giornata tutti insieme a Milano? Sì, è stata l'ultima passeggiata che avevamo fatto. E poi eravate abituati ad andare in giro comunque? Sì, assolutamente sì. Daniele era una persona speciale che, come in tutte le foto, sorrideva sempre. Non si è mai fatto abbattere da niente e ha sempre insegnato a far sorridere gli altri. Molti momenti ci hanno legato e hanno fatto sì che noi quattro oggi facessimo questo quartellone a nome però di tutte le persone che ci hanno messo una foto o una parola perché comunque lui ha fatto tanto per tutti. E questo qui sarà un piccolo gesto che lo aiuteremo a ricordarlo perché Daniele farà sempre parte di ognuno di noi e ha fatto parte della nostra adolescenza e farà parte della nostra vita futura perché ha lasciato un segno indelebile.